Torna in centro storico a Camaiore, dall'11 al 15 agosto, l'ultimo degli eventi estivi, ma uno dei più sentiti ed importanti, le follie di Ferragosto, Camaiore ed altri tempi, la storica mostra mercato promozionale dedicata al mondo di una volta e al tempo che fu, che riviverà nelle piazze e nelle strade del cuore del capoluogo. Un evento della tradizione altamente caratterizzante dell'estate camaiorese, finalizzata alla promozione e valorizzazione del territorio, che anche quest'anno riconferma il proprio impianto generale, dalla fiera di antiquariato, modernariato e vintage, alla mostra espositiva di veicoli in mezzi d'epoca, fino all'organizzazione dei giochi di una volta e alle serate musicali in tema spiccatamente revival. Quest'anno la manifestazione si avverrà anche di due importanti novità. Quest'anno sarà un anno eccezionale perché dopo tanti anni avremo l'onore di riportare la compagnia dei burattini, dei fratelli Ferraiolo, che sono i più vecchi burattinai esistenti in Italia e che praticano questa attività dal 1860. Sarà un grande evento e lo faremo in piazza San Bernardino, proprio nel centro davanti al comune. Insieme loro porteranno anche una tradizione tipica che era dei tempi passati, ovvero appunto di come veniva fatta la menta, la lavorazione della menta. Gli incontri e gli eventi collaterali alla manifestazione potranno essere seguiti anche sulle pagine social che il comune ha appositamente predisposto.